Ciao a tutti ragazzi, qui RomanVelic96 Sono in questo video per spiegarvi come livellare in fretta con lo scudo assalto o anzi un monster come lo preferiate chiamare Intanto iniziamo con la modalità su cui si livella più velocemente Ossia veterano uccisione confermata dato che un veterano con un colpo si uccide mentre in pubblica devi romperti i coglioni a farne due Uccisione confermata perchè da il doppio dei punti e quindi anche per livellare degli XP diciamo del livello prestigio o robe del genere La classe, il preset diciamo leggero oltre il limite e sciacallo Inabbinato o con trofi che blocca i primi due proiettili quindi vi salverà il culo nel caso siete attaccati dalle spalle Non siamo più in vantaggi O stordenti Nel caso rassassati diciamo Tomo Quelle attacchi ravvicinati Ehm Mappe Su cui usarlo Mappe chiuse Come Ayaked O Ayaked come si chiama Qui su Nooktown Plaza che è abbastanza chiusa Carrier sentata dentro al tunnel lì dove ci sono i tubi Ehm Express L'acqua è dal treno Sempre se state negli edifici Nel caso Voleste altri video per Livellare con altre armi diciamo Tipo So che è abbastanza difficile livellare con lo SW AS Che non fai un colpo morto neanche se lo prendi in Hedgehot Perché a volte ti fai marchi in Hedgehot Ehm Basterà richiedere nei commenti Ovviamente se Vi deve piaciuto like Ehm Niente Vi lascio alla Alla fine del video Mancheranno tipo O neanche un minuto Con i miei fail Cerco di sopravvivere ai Come vedete questa non è una partita pubblica E con i bot Perchè ultimamente c'ho la connessione da Da Ucraina Del sud Del nord Vabbè C'ho mai di gola Sono appena stato malato Iiii Iiii Cosa devo dirvi di importante Ehm Bah Non mi ricordo più Vabbè In caso Me lo ricorderò Ve lo dirò in descrizione Ciao a tutti E al prossimo video Ciao a tutti